Siamo messi proprio male, non so se siamo presi di mira solo noi, non saprei dire, però qualcosa bisogna fare sicuramente. Stiamo iniziando a muovere qualcosa, nel senso che c'è sicuramente più rispetto per la donna, rispetto una volta, però va fatto ancora tanto, nel senso che la donna deve essere proprio trattata al pari dell'uomo, nel senso che a volte è un po' sottomessa, non viene rispettata come dovrebbe. Non è normale che gli uomini si accaniscono così sulle donne, perché non è giusto, in fin dei conti dobbiamo avere le stesse parità che hanno loro, perché continuiamo esattamente come contano loro, e quindi non è giusto che veniamo trattati così, perché non va bene. Sembra che si stia muovendo in meglio, però penso che gli abusi ci siano sempre stati e che facevano silenzio, penso. Parte la violenza fisica, ma psicologicamente ce ne sono ancora, forse molto di più ce ne sono. Infatti ci sono diversi tipi di violenza, c'è quella fisica, quella psicologica, quella verbale. Infatti, ma è una cosa in tutti i sensi, diciamo. Io trovo che il diritto dell'uomo e della donna siano uguali, siano parificati, non c'è uno che vale di più di meno. A volte forse la forza prevale, proprio la forza fisica, l'ignoranza mentale, è un vero peccato. In un anno ce ne sono state tanti di questi casi e non è veramente una cosa normale. Non so se anche nel resto del mondo è così, ma noi in Italia siamo messi veramente, veramente male.